Qual è il ruolo del diabete mellito in oncologia? Allora il diabete è noto ormai da tempo è responsabile di un aumentato rischio di insorgenza delle neoplasie in particolare ha un effetto sfavorevole sulla prognosi ma diciamo sono diversi fattori di rischio che condividono diabete e cancro fondamentalmente l'età avanzata poi la dieta l'obesità la sedentarità lo stile di vita fumo sigaretta eccetera poi molto importante che l'obesità determina anche un insulino resistenza e ciò determina con l'obesità un incremento del rischio neoplastico le persone con diabete non solo si ammarrano di più ma anche che la malattia spesso un'evoluzione più sfavorevole la prognosi è legata anche il fatto che questi presentano spesso delle complicanze spesso ci sono farmaci utilizzati in oncologia in particolare i cortisonici che vengono impiegati nella preparazione infusioni chemioterapici che determinano un'alterazione della glicemia un paziente che presenta una lievi per glicemia che fa del cortisone per osso in vena determina veramente uno scompenso con livelli molto alti di glicemia diciamo che l'insulina tra i vari farmaci rispetto ai farmaci orali è il farmaco più maneggevole diciamo e per anche perché la possiamo adeguare il trattamento e la dose in base alla capacità di alimentarsi del paziente la tecnologia in questi ultimi anni aiuta grazie all'utilizzo del monitoraggio glicemico continuo sono dei piccoli sensori dei piccoli apparecchietti che vengono applicati che permettono un controllo continuo della glicemia settimanale perfino anche mensile sono minimamente invasivi questi strumenti consentono di misurare la glicemia ad intervalli abbastanza fissi sia giorno che notte fornendo informazioni su livelli glicemici attuali e quelli che nelle pregressi giorni precedenti alla valutazione quando si abbassa molto la glicemia automaticamente c'è un allarme e permette al paziente di sapere di correggere ricordiamo che quasi c'è che tali sistemi che abbiamo queste tecnologie hanno dei costi e non sono qua non sono sempre rimborsabili per tutti i pazienti la tecnologia ha dato un input molto importante che la possibilità di utilizzare i microinfusori che sono dei dispositivi che permettono di somministrare in continuazione un livello basale di glicemia e può essere tarato che durante il pranzo a cena a colazione ci sia un incremento della dose di glicemia ideale Grazie.